Adesso andiamo sul sopracciglio, non facciamo niente di che perché comunque da giorno, poi comunque ha un bel sopracciglio, ma andiamo semplicemente a rivalutarlo, quindi a pulirlo dall'eccesso di fondotinta e di cipria, con un pennello piccolo, ve lo definisco, vado a chiudere quelli che sono magari gli spazi vuoti, e andiamo alle labbra, essendo una ragazza molto giovane possiamo utilizzare, questi qua sono i nuovi rossetti di Flormald, sono bellissimi perché fanno l'effetto velluto, un pennello utilizzo una matita giusto per definire un attimo il contorno e la sfumo ultimo tocco un po' farz mare andiamo ad illuminare, a dare un po' di colore diciamo sulla cance un po' di colore grazie a tutti